Passerei allora a Gino Roncaglia, professore di editoria digitale e informatica umanistica presso l'università di Roma 3, ci aiuterà a leggere i dati sulla lettura perché grazie alla digitalizzazione come sapete oggi sappiamo molto di più su chi legge che cosa anche se spesso questi dati non sono proprio di immediata interpretazione, è vero? Gino Roncaglia, prego. Grazie, grazie, sì. Sono facilitato nel mio compito dal fatto che alcuni dati sono stati dati in tutte e due gli interventi che mi hanno preceduto e nel parlare di dati sulla lettura naturalmente le questioni delicate sono tante, capire di quali dati stiamo parlando, di come interpretarli, ci sono parecchi problemi che spiegano anche come mai a volte le interpretazioni siano così divergenti. Ci sono dei problemi noti quando molto spesso istituti statistici lavorano su serie storiche, hanno bisogno di lavorare su serie storiche di dati, ma questo spesso impedisce o rende più difficile introdurre nuove voci nelle indagini statistiche e quindi riduce a volte la capacità di cogliere novità. I dati raccolti con i questionari rivolti ai lettori sono spesso molto diversi dai dati che vengono fuori analizzando le vendite. È un tema interessante capire come mai, ma è indubbiamente un'ulteriore difficoltà nell'interpretazione dei dati. Ci sono anche molte differenze tra dati raccolti tra istituti demoscopici diversi. Quello della lettura è uno dei campi in cui le differenze sono più forti, ma in generale le differenze sono forti in tutti i campi e questo rende abbastanza problematico a volte interpretare i dati. Anche qui si potrebbe discutere a lungo del perché. Nell'ambito editoriale il player da molti punti di vista più importanti, Amazon, tende a non dare dati. Anche questo ovviamente è un problema. E ultimo fattore, le lenti, la modalità attraverso cui soggetti diversi del mondo editoriale guardano i dati è spessa diversa. Ci si cercano cose diverse a seconda, a volte a seconda del versante da cui si stanno guardando. E uno dei primi problemi che si incontrano quando si cerca di lavorare sui dati sulla lettura è quello di capire esattamente di quale lettura stiamo parlando. C'è una differenza per esempio molto importante per quello che riguarda l'Italia. Se noi andiamo a guardare la lettura per studio che includa lo studio e i motivi professionali, abbiamo una media di lettura che supera il 60%, il più del 60% della popolazione legge almeno un libro l'anno. Se escludiamo l'ambito dello studio e dei motivi professionali e ci concentriamo sulla lettura per interesse per piacere le percentuali sono circa di 20 punti più basse. Sicuramente sono cambiate anche in parte le forme di testualità. Per certi versi oggi si legge molto più di prima perché tanta parte del lavoro che facciamo anche in rete richiede una capacità diciamo di interpretare simboli alfabetici, di leggere, ma le forme della testualità in rete sono molto più granulari, molto più frammentate e a volte è difficile diciamo nel cercare di capire quanto leggiamo, capire cosa esattamente vale come lettura. E poi ci sono fenomeni come quelli degli audiolibri o dei podcast in fortissima ascesa che introducono anche qui delle forme di lettura diverse da quelle tradizionali che a volte non è banalissimo classificare. Questo per dire che parlare di dati sulla lettura nel generale in generale non è facile. Naturalmente un tema ulteriore che si è imposto in questi due anni è cosa è successo ai dati sulla lettura in funzione di quello che abbiamo attraversato con la pandemia. Noi possiamo dire che la lettura è sempre stata anticiclica, cioè in tutte le situazioni di crisi, non solo crisi economica, tendenzialmente si è letto di più, si è scritto di più. Il Frankenstein di Mariscelli è nato dalla famosa estate-inverno, l'anno in cui l'eruzione del vulcano aveva determinato, loro erano chiusi a casa con pessimo tempo pur essendo estate perché c'era stata l'eruzione del vulcano, una situazione di crisi che ha determinato l'attività, diciamo un aumento dell'attività di scrittura. Non è solo il Frankenstein, è stato studiato proprio l'aumento di produzione dei libri legata a quella particolare estate. La guerra, la pandemia 17-18, la spagnola, la crisi economica a partire dalla crisi del 29, in tutte queste situazioni tendenzialmente si è letto di più ed è cambiato in parte il modo in cui si è letto. Molto spesso nelle situazioni di crisi, compresa la pandemia che abbiamo attraversato adesso, con una dialettica tra evasione e comprensione. Si vanno a cercare libri che aiutano a interpretare la crisi che si sta attraversando e contemporaneamente si vanno a cercare libri che aiutano a evadere dalla crisi che si sta attraversando. Questa dialettica evasione e comprensione è ben presente se andiamo a guardare anche le tipologie di vendite durante quali libri si sono venduti durante la pandemia. Si nota molto bene la presenza di tutti e due questi fattori. Ci sono stati parecchi libri, a cominciare da spillover, che sono stati casi editoriali legati in qualche modo alla comprensione di quello che stava succedendo, ma in maniera forse preponderante ci sono stati anche un aumento della lettura, diciamo, di evasione. La pandemia, la pandemia che abbiamo attraversato adesso, ha avuto un inizio difficile dal punto di vista della lettura. Inizialmente sembrava che si leggesse molto meno i primi mesi, il primo mese e mezzo, tanto che c'è stata tutta una produzione di ricerche, di riflessioni su come mai fosse così difficile leggere. In un certo senso la situazione preoccupava e l'attività, che richiede una certa protezione degli spazi e dei tempi, ma anche una certa tranquillità come la lettura, non era inizialmente facile. Dopodiché, dopo questo inizio non facile, la lettura invece è tendenzialmente cresciuta come tipo di attività. Questo non si riflette necessariamente immediatamente sulle vendite, anche perché le librerie in molte situazioni erano chiuse, ma il tempo trascorso a leggere, in linea generale, sembra essere leggermente aumentato. Non parliamo di aumenti stratosferici, ma anche probabilmente per tutta una serie di nuove abitudini collegate al periodo che abbiamo attraversato, per esempio la grande quantità di attività culturali, presentazioni di libri che sono arrivati a domicilio, e anche il fatto che, dopo tutto, rispetto a tanti altri tipi di attività culturali, dal cinema al teatro alla musica, la lettura per sua natura era molto più adatta alla situazione non solo di lockdown, ma in generale di ridotta possibilità di attività sociali. E tutto sommato, qui potremmo attraversare statistiche diverse di paesi diversi, ma ci porterebbe via troppo tempo, però tutto sommato, passato il primo mese, mese e mezzo, è vero che abbiamo letto un pochino di più. Qui c'è qualche dato che si riferisce al mercato italiano, ma non mi interessa tanto analizzare i singoli dati in dettaglio, anche perché appunto ci porterebbe via molto tempo, ma indicativo è il fatto che il primo comunicato dell'AIE dopo la pandemia era stato totalmente pessimista e drammatico, mentre già il comunicato che era stato fatto sei, sette mesi dopo era stato molto più tranquillizzante, si notava, passato il primissimo momento, questa tendenza a un certo aumento della abitudine della propensione alla lettura. Si può anche andare a cercare in che forma sono cambiati i generi, cosa è cambiato in questo periodo sulle tipologie di libri, ho già parlato della dialettica tra evasione e comprensione, non entro anche qui nei dati nel dettaglio, un aspetto importante è sicuramente stato anche l'influsso della scuola, perché nelle situazioni in cui la scuola è stata chiusa per certi periodi, tra le attività di casa la lettura ha avuto un suo ruolo, diverso a seconda del modo in cui gradi, ordini scolastici diversi, situazioni diverse hanno affrontato la realtà della didattica a distanza, di questa didattica a distanza di emergenza, ma l'effetto scuola c'è stato in qualche misura anche sulla lettura. Lo accennava già Massimo Brai, c'è stata una certa crescita del digitale, c'era una delle sue slide che mostrava l'andamento in vari paesi, non anche qui stratosferica, non è raddoppiato, triplicato l'uso delle risorse digitali, è aumentato a seconda dei diversi paesi tra il 16 e il 50-55%, l'uso di di autolibri, è un aumento significativo anche perché arriva dopo un periodo di lunga stasi se non di lieve declino nell'uso dei libri elettronici e della lettura in digitale, la crescita sicuramente c'è stata, non è stata un'esplosione. Il campo in cui questa crescita è stata più rilevante, più significativa e probabilmente è interessante, particolarmente interessante notarla, è quello di cui si parlava nell'intervento che mi ha preceduto, cioè il prestito digitale, la lettura sia dal punto di vista della lettura di libri, di ebook, sia dal punto di vista della consultazione di piattaforme che permettono di lavorare con i quotidiani online. Questo aumento è stato significativo tanto da creare, non solo in questa situazione, questi problemi legati alla crescita virtuosa che ha un impatto non irrilevante anche finanziario, sulla locazione delle risorse finanziarie e questa crescita del prestito digitale in molte situazioni pone dei problemi alle biblioteche nelle decisioni legate all'allocazione delle risorse. Quello del prestito digitale è un campo in cui l'aumento è stato più significativo. non dobbiamo dimenticare comunque che tra le attività fatte a casa, certo c'è stata questa relativa crescita della lettura, ma la crescita per esempio nell'uso di video, in pratica come quella del binge watching, della guardare a ripetizione serie televisive, questa crescita è stata maggiore rispetto alla crescita della lettura. Ci troviamo comunque in un panorama mediatico che non è più quello né della crisi del 29 né della spagnola, ma è un panorama mediatico in cui anche a casa, a fare concorrenza al libro, c'è un'offerta mediale molto composita e ricca in cui il video ha un ruolo di particolare rilievo. Se si riflette sugli effetti, naturalmente uno dei primi problemi, mi avvio pian piano verso la fine, uno dei primi problemi è capire se gli effetti sono effetti di breve o di lungo periodo. Alcuni effetti li ha già ricordati, per esempio la crescita della quota di distribuzione anche di libri cartacei attraverso la vendita online e quindi la crescita della quota di Amazon è un fenomeno notevole, lo vedremo nell'ultimissima slide con qualche dato, probabilmente di lungo periodo. È difficile che una volta che si prende l'abitudine ad acquistare libri online si torni moltissimo indietro e questo lo vediamo già in questa fase di uscita della pandemia che non ha diminuito significativamente la quota di acquisti di libri attraverso gli store online. In particolare l'espansione di Amazon è stata largamente a danno delle librerie di catena, mentre le piccole librerie, le librerie indipendenti, le librerie di prossimità hanno retto un po' meglio delle librerie di catena. Il calo delle librerie di catena è stato più forte del calo delle librerie indipendenti, però le librerie indipendenti sono ovviamente più deboli e quindi questi fattori vanno considerati un rischio per le librerie fisiche, indubbiamente c'è. Un altro cambiamento di lungo periodo è quello della cornicio e della lettura. Il fatto, l'importanza della rete come luogo di discussione, di scoperta, di discovery, si dice tecnicamente, di libri, indubbiamente, è un ruolo che anche questo non andrà perso, l'abitudine allo streaming, al fatto che presentazioni di libri e incontri culturali possano essere anche in streaming. Credo che questa, anche superata la pandemia, in molte situazioni resterà. Ultima slide, proprio rapidamente alcuni degli ultimissimi dati che fotografano un po' questa situazione. Questo è l'ultimo rapporto del sindacato italiano Librai e potete vedere come prima della pandemia il ruolo dell'acquisto dei libri online fosse relativamente limitato, 25%, con un ruolo abbastanza ampio delle librerie di catena e delle librerie di prossimità. Dopo la pandemia il ruolo dell'online è enormemente aumentato. Il passaggio è veramente impressionante. e la maggior parte delle persone che ha acquistato libri online nell'ultimo anno e mezzo, due anni, durante la pandemia, lo faceva per la prima volta. Questo ci dà l'idea che questo tipo di cambiamento e quindi i cambiamenti nel mondo della distribuzione probabilmente è di particolare rilievo ed è uno dei cambiamenti che va valutato con più attenzione e può avere conseguenze lungo periodo maggiori. Mi fermerei qui, cercate di dare un... Grazie Gino Roncaglia. La farei accomodare per una brevissima domanda. Parlavamo della distribuzione digitale che ci permette di sapere molto di più, di avere dei dati su chi legge che cosa. Ecco, questi dati però sappiamo sono difesi con i denti da piattaforme come Amazon che non li condividono. Come fermare lo strapotere di queste piattaforme? E qui ci sono due aspetti che sono rilevanti. Uno è lo strapotere dal punto di vista della quota di mercato e l'altro è quello, lo strapotere dal punto di vista del controllo della quantità di dati che vengono raccolti e del controllo su quei dati. Sono due cose che sono naturalmente legate ma sono tendenzialmente indipendenti. Per quello che riguarda le quote di mercato, io ho l'impressione che al di là di cercare di far pagare le tasse a tutti e di costruire un sistema europeo in cui non ci siano paradisi fiscali neanche relativi, perché questo favorisce gli oligopoli ed è rischioso, non c'è poi moltissimo che si possa fare. Bisognerebbe cercare di far pagare le tasse ad Amazon, per dirlo chiaramente, farle pagare tutte e farle pagare pienamente e magari usare una parte di quelle tasse anche per investimenti legati al mondo della cultura nel suo complesso. Per la seconda parte, la questione dei dati personali, qui c'è veramente un enorme tema. Io credo che su questo serva una normativa un po' più attenta e serva una consapevolezza da parte degli utenti probabilmente maggiore. Alcuni dei dati sulla lettura che vengono raccolti, peraltro, sarebbero assolutamente preziosi per capire. Considerate che quando leggiamo su Kindle, per esempio, Amazon sa quando cambiamo pagina, quanto tempo, quanti secondi in media restiamo su ogni pagina di un certo libro, cioè c'è una quantità di dati enorme. Probabilmente l'idea che su alcuni di questi dati ci debbano essere i meccanismi di protezione più forti e altri di questi dati possano essere invece condivisi in maniera più aperta e qui servono degli interventi normativi. Un equilibrio, insomma, fra tutto. Grazie Gino Roncaglia.